Con il tempo di 29.46 per il Mexico Gomez-Majoral-Violeta-René Eccola qua Lo sprendito podio, dov'è Lorella Pagliacci? Lorella Pagliacci Eccola qua, è arrivata un po' in ritardo alle premiazioni Eccolo qua lo sprendito podio di questa quinta edizione della Filastrissima Violeta-René Gomez-Majoral Lorella Pagliacci Antonella Bellitto Il podio della quinta edizione della Filastrissima Ovviamente per voi l'appuntamento è per l'anno prossimo L'appuntamento è per tutte le altre manifestazioni podistiche